L'iconografia del santo patrono di Villar San Costanzo, unitamente a quelle di altri martiri della legione Tebea, è largamente diffusa nelle vallate del Basso Cuneese e lo vede solitamente rappresentato con la palma del martirio, la spada e lo stendardo con croce rossa in campo bianco. Tale raffigurazione è presente sulla settecentesca facciata della chiesa di San Costanzo al monte. La leggenda, nata dalle gesta di questo santo ed arrivata sino a noi, narra che i Cicciu del Villar, colonne di pietra simili a funghi, di elevato interesse geologico, fossero dei soldati romani che durante l'inseguimento di San Costanzo vennero da lui maledetti e miracolosamente pietrificati. La riserva naturale dei Cicciu del Villar offre al turista un'interessante opportunità di sport e svago.